Convegni, sedie, ristoranti, manca un tablet, una stampante e addirittura alcuni maialini sardi. Sono tante le spese al vaglio della procura di Cagliari contestate a Sisinio Piras, consigliere regionale della Sardegna in quota al PDL. Stamattina per lui sono scattate le manette ed ora l'esponente politico si trova nel carcere di Buoncammino. I magistrati hanno ravvisato il pericolo di inquinamento delle prove e il rischio di reiterazione del reato. L'accusa è peculato per un presunto uso illecito dei fondi destinati ai gruppi del Consiglio regionale della Sardegna. Il provvedimento è l'effetto delle inchieste sui rimborsi gonfiati ad arte che hanno coinvolto uno dopo l'altro i consigli regionali di mezza Italia e che in Sardegna hanno già portato in manette due colleghi di Piras. Mario Diana, ex capo gruppo del PDL ed il collega Carlo Sanjust. Nei primi giorni di novembre gli investigatori avevano perquisito l'abitazione di Piras alla ricerca di documenti relativi ad una serie di convegni di medicina sportiva organizzati nella palestra azzurra 2000 a Villa Cidro, intestata alla moglie. Secondo l'accusa i convegni sarebbero serviti per giustificare la spesa di 24.000 euro, soldi prelevati dal fondo attività istituzionale del gruppo. Non solo gli investigatori stanno cercando di accertare la spesa di 5.000 euro sempre a favore della palestra e non rendicontati l'acquisto di un tablet e di una stampante. Nel mirino degli investigatori anche il consumo di decine di maialini durante i banchetti seguiti ai convegni. Dalle inchieste Sardegna risultano indagati 53 consiglieri di PDL, Udc e PD e proprio oggi Mario Diana arrestato il 6 novembre scorso con l'accusa di peculato in una lettera si dice vittima di un processo sommario e accusa i colleghi del palazzo di non essere intervenuti per impedire o attenuare l'inciaggio mediatico subito da lui e dalla sua famiglia.